questo questo alano 48 di Renato di Paterno Calabro e mi dice qui controllo generale 80 ch 80 canale da inserire con un pomello a scatti led giallo canale normale led rosso canale superiore da visualizzare sulle semiter portare la potenza intorno ai 2 watt vedete che stranezza c'è chi la vuole alta c'è chi la vuole bassa evidentemente deve 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 pilotare un lineare aumentare la modulazione è un leggero preascolto quindi lo proviamo di solito lo provo per far vedere poi che magari la potenza che aumento è superiore invece qua lo provo solo così per allora per quanto riguarda la frequenza siamo distanti dovrebbe essere 27 225 per quanto riguarda la potenza sono 4 watt quindi adesso mi attivo per fare per esaudire questo desiderio questo è il suo interno diciamo che è messa bene la radio anche internamente come estetica dico ecco bene cominciamo allora il lavoro è stato completato adesso che ce l'ho aperto vediamo la sequenza perché era fuori frequenza se ricordate all'inizio quando l'ho fatto vedere quindi ho messo il compensatore giallo qui da 40 picofald con uno aggiunto vicino da 30 picofald per poter regolare non so se si vede qua sotto qua vediamo eccolo quasi per poter regolare la frequenza quindi siamo sul canale 1 del 40 normale 269 65 per andare su quelle altre basta tirare quelle il comello dello suelci e quindi andiamo sull'altra estremità sul 40 27 855 per ridurre la potenza io non solo ho cambiato pure il finale di trasmissione ho messo una di quelle maggiorate perché con il lineare magari sopporta meglio come posso dire sopporta meglio che sopporta non mi viene la parola ora vi faccio le sollecitazioni dai sopporta meglio le sollecitazioni mi è venuta quindi qui ho messo al re di diodi per ridurre la potenza 4 diodi era 5 quindi con questo qua con tutte le dovute le evoluzioni scesa a due due e mezzo quindi ideale per per pilotare un lineare lo chiudo faccio un po di pulizia qui sul 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 bancone e lo proviamo allora come già abbiamo detto da qui si inseriscono i canali alti si accende la luce rossa si inseriscono quelli alti così sono quelli normali quindi abbiamo questa potenza adesso lascia lo faccio ne faccio il mezzo con questi picchi ora 15 16 in modulazione ora ora trova ora ora così possiamo dire che abbiamo concluso non è stato molto impegnativo quindi vi ringrazio pubblico il video per farlo vedere a Renato grazie anche oggi per una buona giornata grazie ancora